Rete civile antimafia qui a San Severo nel Foggiano. Pino Aprile è l'ideatore di questo percorso di resistenza. Che cosa sta accadendo nel Foggiano e perché un'iniziativa di questo genere? Il Foggiano, la Capitanata, il Gargano, Tavoliere, i Monti Dauni, un territorio sterminato e anche molto vario, è afflitto da una mafia, anzi alcune mafie perché sono diverse fra di loro, di una feroce arcaica, ancestrale ed è una condizione, sono dei gruppi criminali la cui storia, la cui estensione, la cui pericolosità sono pochissimo note, non se ne parla quasi per niente. A questa situazione insostenibile lo Stato ha dato una risposta che è l'esatto contrario del necessario, ovvero ha soppresso sette tribunali su otto nel territorio della Capitanata che è per esempio più grande dell'intero Molise, cioè siamo a più del doppio, ma mentre il Molise ha le corti d'appello, le cose, tutto quello giusto che si abbia, la Capitanata ha solo ormai il Tribunale di Foggia senza una corte d'appello e quindi è letteralmente abbandonata a se stesso questo territorio e si badi che è per voce comune e non infondata. I magistrati di Foggia sono di un livello medio che è assolutamente al di sopra della media, perché? Perché evidentemente anche il sovraffaticamento, il super lavoro li ha fortificati, non so come dire, perché ogni magistrato di Foggia ha una quantità di lavoro che almeno quadrupla rispetto a quello di un suo collega di un'altra parte d'Italia. Ora che questo accadde in una zona di mafia così intensa è davvero inimmaginabile e incomprensibile, tanto da far sospettare che sia una situazione voluta, creata, cercata per regalare un territorio al crimine. Questa di oggi è un'iniziativa partecipata nonostante il giorno, insomma è domenica mattina, quindi dal basso c'è la chiave di volta per reagire anche all'assenza dello Stato. Sì, c'è da dire per puntualizzare che lo Stato c'è, ma c'è poco, cioè chi rappresenta lo Stato qui lo fa bene e lo fa con un coraggio e una quantità di lavoro che meritano tutte le lodi possibili e immaginabili e anche il coraggio di dire allo Stato, alle istituzioni noi non possiamo reggere Fortalamo da soli, voi dovete venire, cioè voglio dire sono persone che meritano tutto il nostro rispetto, ma sono pochi. E allora cosa bisogna fare? Qual è la proposta di giornate come questa? Di costituire reti civili del territorio attraverso le istituzioni locali, i sindaci, i comuni, le associazioni antimafia, basti vedere a quello che è successo a Foggia con quella manifestazione con 20.000 persone, con Don Ciotti eccetera eccetera. E quindi come dire, stendere sul territorio una rete di attenzione, di opposizione che affianchi le istituzioni e assieme alle istituzioni locali imponga allo Stato centrale di dotare questo territorio delle strutture che è giusto che abbia, almeno non meno degli altri. Ne dovrebbe avere di più vista la presenza di mafie così forti, così feroci, ma almeno non meno di altri. Questo è quello che si vuole ottenere, anche perché la società civile non può, come diceva Chinnici, come diceva Borsellino, scrisse Borsellino, diceva Falcone, non può delegare l'antimafia alla magistratura, alle forze dell'ordine. L'antimafia è soprattutto una manifestazione di cittadinanza sana. Quando si arriva alle forze dell'ordine e alla magistratura il danno è già fatto. La società civile è già inquinata, è già innervata dai tentacoli marci del crimine. Quindi quei tentacoli vanno tagliati prima. Far finta certi studi professionali, certe professioni, dalla finanza all'economia, contigue al mondo mafioso. Far finta di non sapere da dove vengono quelle risorse è una complicità precisa, una scelta di complicità. Chi fa questo non è diverso da chi quelle risorse, quei soldi li procura a quella maniera. Simona Venditti, assessora delle politiche sociali del Comune di San Severo. Allora, grande risposta della gente e della Capitanata all'iniziativa odierna. Le finalità? Quella di attivare un processo di contaminazione in materia di legalità. Questo territorio ha voglia e può riscattarsi. Ma lo deve fare partendo soprattutto dal processo di responsabilità individuale che diventa collettivo e diventa reazione comunitaria. Che cosa sta accadendo da mesi all'interno del Foggiano? Da mesi nella nostra realtà territoriale c'è una faccia a faccia. Ogni volta che la presenza dello Stato si rende più evidente la mafia del nostro territorio ormai definita, anche così, reagisce. La comunità che si trova in mezzo sta iniziando a rendersi conto che oggi quella maggiormente chiamata a dichiarare la propria presenza, la propria volontà di riscatto è proprio la comunità. E oggi questa giornata era per avviare questo processo e dire che si può. Ciro Corona, fondatore e presidente di Resistenza Antica Morra Scampia è leader della rete delle resistenze meridionali. Ciro, tu hai raccontato la resistenza di Scampia qui nel Foggiano, nella Capitanata, che è aggredita dal fenomeno criminale in una maniera anche violenta. Sì, l'idea che se altrove è già successo qualcosa, come diceva Pino, e questa cosa funziona e la si può copiare, forse dà forza e speranza. Scampia forse è diventato il modello di laboratorio sociale antimafia più grande d'Europa ed era giusto portare qui la testimonianza di come una rete intera sia riuscita a riscattarsi dalla camorra. Oggi qui c'erano diverse esperienze, diverse realtà e se riusciamo a mettere a regime queste esperienze, queste belle e virtuose realtà, forse riusciamo a rilanciarla davvero un'antimafia che parte dal sud di Roma e arriva fino in Sicilia. La cosa che un po' colpisce tutti in occasione del genere sono le tante esperienze che dal mezzogiorno, in maniera spontanea, dal basso stanno nascendo, alla Calabria, alla Scampia, dalla Puglia. Secondo te è possibile pensare ad un cammino specifico, vista anche la natura dei territori meridionali, cioè quelli in cui preme una organizzazione militare del fenomeno criminale? Quindi c'è bisogno di una risposta innanzitutto dei territori, che è una risposta specifica, autonoma. Qualche anno fa in realtà la rete delle resistenze meridionali si è posto questo obiettivo, riuscire a riscattare i territori, cominciare a fare antimafia sporcandosi le mani sui territori, quindi mettere insieme le varie realtà dei nostri territori e avviarle ad un'antimafia che non è quella borghese, che non è quella parassitaria, ma che è un'antimafia che sta sui territori tra la gente e con la gente. Oggi la scommessa non si può fare, si deve fare, la scommessa è proprio questa, quella di mettere insieme tutte queste realtà per un unico grande movimento di resistenza alle mafie che ci piace l'idea, si possa chiamare, insomma, possa avere una connotazione fortemente meridionale, quindi la rete delle resistenze meridionali, ma noi siamo convinti che tutto questo sia possibile. Trovare a scampia il cuore di questa lotta simbolicamente significa abbattere appunto un simbolo e rilanciarlo in modo positivo. Chiudiamo il 23 di maggio, ormai da anni, proprio all'interno dell'Officina delle Culture Gelsomina Verde a Scampia, si tiene il forum di questa rete delle resistenze meridionali. Quanto è importante oggi parlare dei vivi ricordando i morti e non ricordando i morti in una maniera retorica per non parlare dei vivi? Ma in realtà qui bisogna fare un mea colpa della società civile. Per tanti anni l'antimafia ha parlato dei morti semplicemente perché i vivi fanno paura, fanno paura nella misura in cui possono smentire, fanno paura nella misura in cui possono raccontare che quelle parole stipendiate siano parole interessate. Stare a Scampia quel giorno il 23 maggio e farlo con una rete significa innanzitutto partire da nomi come quello di Gelsomina Verde, come quello di Don Pepperiana, come quelle di tutte le vittime che ci appartengono da vicino e soprattutto fargli diventare non l'icona, non la bandiera, ma un segnale di forza, un elemento di forza per chi ha deciso non solo di vivere sui territori, ma soprattutto di essere vivi sui territori, di vivere i territori provando a riscattarli. Quindi quel 23 maggio ancora una volta per noi significherà una ricarica per il prossimo anno, una ricarica di energie, di motivazione, di forza e perché no, una ricarica diventata nuova affinché questa rete delle resistenze medionali possa crescere sempre di più, ma crescere non lontano dai territori, crescendo sui territori, la famosa economia sociale che fa ricadere sui territori l'economia che si produce, ma soprattutto che dà opportunità concrete, sociali, culturali e lavorative a chi vive territori. La splendida giornata antimafia di San Severo è stata sporcata da un manipolo di vigliacchi mafiosi che al termine del grande incontro tenutosi al Teatro Verdi hanno dato fuoco all'auto del consigliere comunale Antonio Carafa. Non è un semplice avvertimento, ma come l'incendio appiccato ai mezzi di raccolta nel deposito rifiuti urbani e l'attentato alla cantina sociale è una sfida vera e propria ad una città accogliente ed operosa di 60.000 abitanti che non si piegano alla logica mafiosa. Nel riuscito incontro di domenica scorsa è stato ribadito che questo è solo l'inizio di un percorso antimafia che coinvolgerà l'intera città con la partecipazione della provincia. E quanto spaventa i clan malavitosi che messi alle corde dall'azione repressiva delle forze dell'ordine dalla reazione popolare reagiscono vigliaccamente così dimostrando di avere paura. Ma non saranno certo queste azioni criminali a fermare la volontà antimafia della Capitanata. La mafia è una montagna di merda e noi ce la vogliamo scrollare di dosso.